La squadra non sta rispondendo all'altezza della situazione. La squadra che già avevamo messo anche in preventivo, visto che abbiamo cambiato completamente metodologia di lavoro e quindi era preventivabile aspettarsi una prestazione non all'altezza del Benevento. Abbiamo provato tutta la settimana con un sistema di gioco alternandolo al 4-4-2. Siccome secondo il nostro punto di vista abbiamo notato diverse difficoltà nelle uscite soprattutto dei tre difensori e anche dei tre centrocampisti, abbiamo pensato di inserire Campagnacce e Melara per dare più profondità e nello stesso tempo di chiudere la partita. Ma in questo momento ci riesce poco, ma io resto sempre convinto delle parole che vi ho detto all'inizio settimana, che questa è una grande squadra. Lo dimostrano i numeri e non lo dice il sottoscritto. In questo momento stiamo un po' in difficoltà. In questo momento proviamo determinate cose e non ci riescono. In questo momento sbagliamo gol che qualche mese fa lo potevamo fare. Per quanto riguarda la mentalità bisogna lavorarci un po' di più. Evidentemente non ci siamo espressi bene io e Manuel, però non ci sono problemi al momento. Non abbiamo paura del pareggio, non abbiamo paura di come continueremo il nostro lavoro. Siamo consapevoli che da qua a tre settimane il Benevento sarà pronto. In questo momento la squadra, visto il cambio di metodologia del lavoro che abbiamo fatto, non può essere brillante nell'immediato. C'è bisogno di aspettare due o tre settimane e avremo la brillantezza fisica che tutti stiamo cercando. Nello stesso tempo dobbiamo capire che stiamo in difficoltà, ma non ci sono problemi, perché è una difficoltà preventivata dal fatto che può sobbentrare anche un po' di paura quando non ci riescono le cose. Ma questi sono ragazzi e sono calciatori che ci hanno sempre dimostrato il contrario, quindi siamo molto fiduciosi per il nostro futuro. Grazie per la visione!